L'Europa dei popoli ha lasciato completamente sola l'Italia. Il ministro Piantedosi e la Lega stanno lavorando ad un nuovo decreto sicurezza, ma se Bruxelles ancora una volta farà finta di niente, noi non riusciremo a fermare questa tragedia. È una tragedia epocale e non possiamo affrontarla da soli. Sulla gestione dei migranti il fallimento del governo Meloni è evidente. Sbagliano Francia e Germania a sbattere le porte in faccia all'Italia, ma questo governo che ha difeso le scelte egoiste e nazionaliste di Ungheria e Polonia non deve dire nulla. Sono vergognosi, Lampedusa è al collasso, gli sbarchi sono più che duplicati e l'unica cosa che fa Giorgia Meloni è continuare a parlare per slogan. Veramente imbarazzante.